E' stata occasione per ribadire la necessità di un tavolo presso la Regione Campagna, la presenza dell'assessorato al lavoro e quello all'ambiente, il confronto che si è avuto questa mattina tra i 47 lavoratori del Corisa, il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti ai vertici di Palazzo Sant'Agostino. Ad incontrare i lavoratori e i sindacati il vicepresidente della provincia Carmelo Stanziola al quale i lavoratori hanno avuto modo di ribadire le loro richieste. Da mesi senza stipendio non si ha certezza del loro futuro occupazionale per i 47 dipendenti in parti amministrativi usciti fuori da tutti i percorsi di ricollocazione. Pare che la Gesco Ambiente abbia affidato, abbia esternalizzato il servizio di pulizia ad una cooperativa di servizi. Allora visto che tra le persone in disponibilità ci sono alcune colleghe che hanno sempre effettuato le pulizie anche presso il Consorzio di Bacino, mi chiedevo se Leida avesse potuto gestire questa cosa in maniera diversa. Semplicemente questo. Sono informazioni che abbiamo avuto, non abbiamo dati certi, però sarebbe opportuno che si valutasse e si verificasse se quello che sto dicendo corrisponde a realtà. La cosa singolare è che 45 lavoratori lavoravano, quindi dov'è finito questo lavoro? C'è un tentativo di esternalizzazione oppure c'è addirittura un tentativo di imboverire la nostra provincia. Allora la Gesco è una struttura operativa della provincia, quindi su questo bisogna fare chiarezza, ma come è impensabile che nel dubbio amletico se il Consorzio di Bacino è un ente pubblico o è un ente pubblico economico, nel dubbio i lavoratori siano senza stipendio e senza collocazione. Oggi siamo qui come provincia, quantunque voglio ricordare che la provincia in seguito a quello che è il discorso della nuova normativa non è che ha più potere decisionale rispetto a quelle che sono le problematiche riferite al ciclo dei rifiuti in senso lato e nello specifico di Corisa, però è giusto che la provincia intesa come casa dei comuni si interfacci con gli organismi preposti e noi faremo quanto più giusto possibile di interfacciarci con la regione Campania affinché si trova una soluzione anche per quanto riguarda questi lavoratori che, ripeto, come dicevo all'inizio, hanno il diritto e il dovere di essere intanto recepiti, ascoltati ed accompagnati.